Sono ripartiti due cantieri nel centro di Termoli. Nel primo caso sono ripresi lavori preliminari alla realizzazione del tunnel e dunque gli operai della Geocontrol di Popoli hanno effettuato l'ultimo carotaggio nel terreno sotto la torretta Belvedere. Le trivelle si erano fermate a ottobre quando dalla torretta erano caduti alcuni calcinacci. La soprintendenza aveva stoppato i sondaggi che sono ripresi solo in seguito a un accordo con la ditta di Francesco che proprio nei giorni scorsi, dopo diversi rinvii per il maltempo, si occupata a proprie spese della messa in sicurezza della struttura all'ingresso del borgo. Terminata questa fase sono ripartiti i sondaggi, gli ultimi in programma. E dopo il rinvio per la pioggia è stato aperto anche il cantiere sul terzo corso dove la società Acqua di Mare dell'imprenditore Dante Di Dario si sta occupando della riqualificazione della strada nell'ambito di un accordo di compensazione fatto con il comune relativo alla costruzione di due complessi residenziali sul lungomare Cristoforo Colombo. Il tratto interessato dai lavori va dalla scalinata del folklore e arriva fino all'incrocio concorso Umberto I e prevede il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, nuovi lampioni, nuova piantumazione di alberi e ci sarà anche un impianto di videosorveglianza. La consegna dell'opera è prevista entro quattro mesi.